La cosa che è emersa è che il lavoro in Italia sarà un lavoro diverso, che dobbiamo cercare di tutelare le persone che in questa rivoluzione digitale rimarranno indietro per età e per esperienza e che l'Italia è un paese straordinario come giacimento culturale di patrimonio e di bellezza e che quindi su quello dobbiamo puntare molto. Sappiamo che hai qualcosa da dire sul codice antimafia. È una schifezza, è una m****ata, cioè pensare che un corruttore che deve andare in galera sia trattato in fase processuale come un mafioso è una cosa da pazzi, non da stato diritto. Ci sono i processi, ci sono le sentenze e dopo le sentenze si sta in galera e ci si sta davvero, non come in Italia che ci si sta poco, ma prima del processo e prima della sentenza l'idea che tu possa avere la tua libertà violata e soprattutto il tuo patrimonio sequestrato come se fossi un mafioso è una cosa allucinante.